Asin Trekking, noi ci siamo visti lo scorso anno, almeno una volta all'anno ci vediamo, ma poi torneremo a trovarvi. La vostra è un'attività bellissima, tante famiglie, tanti bambini che vengono qui. Ripetiamo un po', facciamo un po' un riassunto di quello che fate voi. Sì, noi siamo molto contenti perché quest'anno, ancora di più dell'anno scorso, questi bambini con le loro famiglie sono venuti qui veramente per fare tutte le attività con noi. Noi siamo ad Asti, quindi a 45 minuti da qui, e nella nostra area proponiamo comunque tutte le attività per bambini, famiglie, scolaresche, facciamo le attività anche per persone un po' speciali, ma soprattutto per godere anche di una bella giornata, a contatto con la natura, ma in tutte le stagioni, non solo nella stagione estiva. A contatto quindi con gli asini, questo animale veramente dalle caratteristiche particolari, perché è docile, tranquillo, è un animale che comunque sa aspettare e poi è simpatico con queste grandi orecchie, questi grandi occhioni. Poi abbiamo i cavalli dove facciamo tutta l'attività di equitazione e dove facciamo anche le passeggiate. Poi abbiamo le nostre caprette, le cinque caprette tibetane, che anche con loro si può fare attività, sono simpaticissime. Poi una cosa molto bella, per chi ha piacere di camminare un po' nella natura, facciamo il trek insomeggiato. Quindi in compagnia di asinelli e cavallini in miniatura si va, si cammina, si gode quindi del nostro territorio che è il Monferrato e si arriva soddisfatti perché si è fatto una bella attività senza competizione, in tranquillità. Poi abbiamo un ponte tibetano molto bello, abbiamo la parete d'arampicata, il tiro con l'arco, i giochi. Diciamo per passare veramente un momento un po' per tutti, siamo un po' per tutti. Poi la vostra filosofia è proprio quella della serenità, di vivere serenamente, di dare serenità. Volevo subito sfatare una cosa, perché noi siamo stati da voi. Gli asini sono belli, simpatici, ma sono anche intelligenti, questo non ce l'aspettavamo. Allora, l'asino è un animale molto intelligente, purtroppo è sempre stato un po' discriminato, diciamo che le hanno sempre attribuito un po' questo compito anche dei lavori più umili. Un animale anche sfruttato, anche nel nostro passato. E un animale anche un po' denigrato, quindi è stupido perché non viene e non ascolta. Ma semplicemente perché noi esseri umani dovremmo dare un attimo il tempo all'animale di capire e di ragionare, perché l'asino è intelligente, quindi pensa a quello che deve fare, si studia il giusto percorso, si studia il giusto modo e lo fa. Infatti tante volte quando noi facciamo i trekking sommeggiati, ci lasciamo un po' guidare da loro, perché ci conducono nella strada più giusta, al percorso più giusto. A differenza del cavallo, che è un animale che è un po' più metodico, bisogna un attimino un po' darle coraggio, no? E magari quando si spaventa è un attimino un po' più imprevedibile. L'asino quando si spaventa cosa fa? Si ferma, si blocca e aspetta, ci ragiona. E poi i nostri con noi, giustamente, collaborando tutti i giorni nell'attività, c'è un bel binomio, c'è un bel rapporto e quindi è lì che prendono anche sicurezza e coraggio da noi. Poi abbiamo scoperto, venendo da voi, ma l'abbiamo visto anche qui, che vengono le famiglie, portano i bambini per far scoprire gli asini, la passeggiata con loro, e anche tutti i giochi che hai detto, ma c'è una fascia di persone stressate, dai manager agli impiegati, che invece scoprono, senza bambini, magari in coppia, che andare a spasso con l'asino ti riporta alla vita, è vero? C'è anche questa fascia. Proprio per chi anche, addirittura come gruppo di lavoro, deve fortificare la relazione tra di loro, per anche poi lavorare meglio in squadra, in team, vengono e fanno queste giornate da noi, quindi una sorta di, chiamiamolo team building, ma per noi invece è veramente un attimo di relazione semplice, dove scoprono lo stare bene insieme, nella natura, con questo animale. In più non dimentichiamoci che c'è tutta la parte, diciamo, emozionale, dove addirittura, per chi è ansioso, stressato, agitato, comunque rilassa, ti porta in una dimensione più calma, tranquilla, addirittura il potere di abbassare i valori della pressione. Per chi ha problematiche del sonno, dell'alimentazione, della relazione, è un animale che veramente ti fa un attimo tornare con i piedi per terra, come dico io, no? In maniera molto semplice. Questo trasmette quell'empatia che diciamo ci deve essere fra persone e animali, voi trasmettete la vostra, perché per voi questo è una professione, ma è una passione. L'avete acquisita facendola, ce l'avevate già, perché insomma in sintonia con i vostri animali ci siete al 100% voi? Beh, noi abbiamo animali che sono da tantissimi anni con noi, quindi abbiamo questa relazione. Però diciamo che abbiamo fondato Asin Trekking, l'ho fondata io nel 2010, dopo che avevamo fatto un po' di tentativi e prove, ma soprattutto da quando è entrata a far parte della grande famiglia la nostra Margherita, perché è un'asina salvata da una situazione un po' drammatica e è entrata a far parte della nostra squadra proprio per amore, perché io l'ho comprata, l'ho adottata proprio perché quando l'ho visto ho detto lei e lei mi ha guardato e ho detto ok portami a casa, perché noi avevamo i cavalli, avevamo i cavalli per nostro uso. Poi lei era gravida, ha partorito Napoleone e da lì oggi ne abbiamo ben 14 asini. Nel frattempo anche i cavalli sono aumentati, i cavallini in miniatura e oggi ne abbiamo 31. Poi sono arrivate le 5 caprette, poi abbiamo 5 cani e quindi è diventata una grande famiglia con tutti gli associati, bambini, adulti, gli anziani, le persone speciali e tutti insieme portiamo avanti questo grande progetto che per me, a un certo punto della mia vita, per mia figlia che un giorno guardandomi negli occhi dice io voglio fare assolutamente questo, mio marito che ci aiuta e poi tutti i collaboratori e abbiamo detto dobbiamo portare per forza avanti questo sogno, questo progetto che giorno dopo giorno si concretizza sempre di più.